Solamente come ha trovato queste persone? Il ferito più lieve che abbiamo visto stava bene, ha avuto molta forza e molto caraggio. I familiari del ferito è uscito dalla sala operatoria e sono confortati dall'esito dell'operazione. Un'altra tragedia? Un'altra tragedia immane. Un'altra tragedia immane, non ha detto l'altra. Lei è il portavoce ovviamente, lei è il sottosegretario della difesa, Roberta Pinotti. Va bene? Uncora un pochino.